5 milioni di euro per 79 comuni siciliani promossi in materia di rifiuti solidi urbani. Gli assessori all'economia e alle autonomie locali hanno firmato il decreto che assegna un contributo agli enti locali che nel 2018 hanno superato la soia del 65% della raccolta differenziata. La lista dei comuni virtuosi è stata predisposta dal Dipartimento dell'Acqua dei rifiuti ed è stata approvata dall'ARPA. Sono orgoglioso, ha detto il presidente della regione Nello Musumeci, perché il numero dei comuni cosiddetti ricicloni è cresciuto a dismisura da 31 a 79. In poco più di due anni la percentuale di raccolta differenziata è aumentata del 100%. Ai comuni beneficiari del finanziamento sarà assegnata una quota fissa di 32 mila euro ciascuno, a cui si aggiungerà una variabile in base alla popolazione. Mentre i piccoli comuni fanno passi da gigante tanto lavoro c'è da fare ancora per le tre città metropolitane che soffrono molto nel porta a porta. In provincia di Palermo sono 17 le amministrazioni che avranno il contributo a Liminusa, Altofonte, Balestrate, Bisacquino, Caccamo, Camporreale, Chiusa Sclafari, Cinisi, Giardinello, Giuliana, Montelepre, Pollina, Prizzi, San Cipirrello, San Giuseppe Iato, Terrasini e Ventimiglia di Sicilia. Per tutti gli altri comuni c'è ancora tanto lavoro da fare.